Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie a giudicare dalla gravità dell'incidente che si sarebbe potuto trasformare nell'ennesima tragedia sul lavoro. Momenti di paura questa mattina nel centro di Barletta a causa della disavventura capitata all'autista di un camion di una ditta di autotrasporti di Molfetta, la Papani Leonardo SRL. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.45 in via Pappalettere a due passi dalla caserma dei Carabinieri. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo stava scaricando della merce per effettuare una consegna quando la pedana del mezzo si è improvvisamente staccata finendo addosso al lavoratore. Per liberare lo sfortunato autista si è reso necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 che dopo i primi soccorsi hanno trasferito l'uomo in ambulanza presso l'ospedale di Miccoli dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Il lavoratore avrebbe riportato ferite ad una gamba con sospetta frattura e ad un braccio. Il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è stato chiuso al traffico dalla polizia per consentire la rimozione del mezzo.